Buongiorno ragazzi, dunque questo video voglio dedicarlo a farvi capire un po' la differenza che c'è tra l'elitio e le batterie piombo acido batterie di auto Allora, per chi mi scrive, ecco una cosa molto importante, per chi mi scrive ma perché non hai messo l'elitio, ma conosci l'elitio? Allora, io ci lavoro con l'elitio, io ho un laboratorio di droni, quindi l'elitio le conosco da 20 anni, le so usare, le so smontare, le so rimontare, conosco i pregi e conosco i difetti Quindi, partendo da questo presupposto, il mio pensiero sull'elitio è questo, che finché si tratta di essere costretti ad usarla, nel senso che dobbiamo usarla in un posto o in un luogo O in una situazione in cui abbiamo, prima di tutto, necessità di leggerezza e di compattezza e comunque di una densità energetica molto più grande Perché comunque la verità è che è vero, loro sono molto più efficienti di loro, assolutamente Infatti, se voi guardate, tipo questa è una cella a litio, questa è una batteria a litio, cioè scusate, questa è una batteria a litio, perché la batteria a litio, ricordatevi che non è questa Ok? O non è questa, la batteria a litio è questa Ok? A loro interno, all'interno di questa o di questa o di quelle comunque chiuse, ci sono sempre queste signorine qua Sono le celle, ok? Questo sia che sia a litio ferrofosfato, sia che sia a litio polimeri di litio, ioni di litio Dentro ci sono comunque delle celle, dei componenti Ok? La batteria vera e propria è questa Quindi, nel vostro pacco batterie, nel vostro impianto fotovoltaico, ovviamente sarà a meno a 12, 48, 24 volt Quindi ci saranno tante di queste, ok? Quindi non avete una unica e pensate che è una sola batteria No, all'interno, vedete come sono fatte? Sono tutte collegate insieme Sì in serie, sì in parallelo, questo è un altro tipo di discorso Però, la cosa principale che vi volevo far notare è questa Che le batterie a litio non sono mai come si presentano Soprattutto quelle che montano sugli scambi sul posto, tipo le Huawei, tipo le Azzurro Tipo questo tipo di batterie che sono già chiuse e sembra un'unica batteria Assolutamente non è così, perché all'interno ci sono queste Ok? Quindi, ripeto, la differenza principale è questa Che mentre una batteria al piombo acido è una e basta E qua abbiamo 12 volt pronti Qua abbiamo tante di queste per fare 12 volt, 24 volt, 48 volt Ok? Quindi questa è la differenza principale La seconda differenza principale è questa Che io per caricare le litio, appunto perché non posso caricarle come quelle della macchina Vedete, c'è un caricabatteria normale di auto da 10 euro Positivo e negativo, via, la carica inizia Ok? No, con le litio non funziona così Con le litio funziona in questo modo qua Adesso prendo questo caricatore da modellismo professionale Dove vi fa vedere proprio cosa succede durante la carica Allora, dunque, questa è una batteria 6S Vuol dire che ha 6 elementi dentro Ogni elemento Ogni elemento ha un voltaggio Ok? Tutte queste batterie con tutti questi voltaggi Ovviamente danno il voltaggio nominale Che in questo caso, tipo di questa batteria qua Essendo una 6S stiamo parlando sui 30 volt, se non sbaglio Ok? Quindi 3,2, 3,2, 3,2, 3,2 Per quanto riguarda il litio ferrofosfato Questi sono i polimiri di litio Quindi si possono caricare fino a 4V Quindi 4, 4 e 4 fanno un voltaggio unico Ok? Il problema delle litio è questo Che, ripeto, quando voi le mettete a caricare E lo vedete anche da qua Lui, mentre le carica tutte insieme Nel contempo deve anche bilanciarle Tipo, questa batteria avrà, bah, una cinquantina di scariche E vedete già che il livello dei voltaggi non sono già tutti uguali Questi dovrebbero essere tutti perfettamente uguali Ok? Allo stesso voltaggio Invece qua vedete 3,9, 3,9, 3,87, 3,88 Quindi questa batteria non durerà tanto Ok? È vero, è stata usata in droni da gara Però comunque il discorso è quello Che le batterie litio Al contrario di quello che dice la gente Hanno una vita, hanno una morte E il problema è che Se una di queste celle Se una sola di queste celle Che compone il pacco Viene a mancare O il livello del voltaggio Cambia tantissimo In confronto alle altre Il pacco è inutilizzabile Non potete più utilizzarlo Per quanto riguarda il litio ferrofosfato Sì, potete cambiare la singola cella Il problema è che la singola cella Non la vendono nella drogheria sotto casa Ok? Tanto so già che tutti voi la comprate su Aliexpress Quindi comunque dovete aspettare Aliexpress Dovete aspettare l'espedizione Dovete aspettare la dogana E comunque dovete aspettare Scusate, sperare che la batteria vi arrivi nuova Ok? Comunque anche quello è il problema Quindi vi succede questo Se una di queste batterie Se una di queste celle Non funziona Succede esattamente questo Questo è il software Che gira all'interno All'interno delle batterie Il software che controlla le batterie Tipo questo schema qua Riguarda questa batteria Che ormai è da buttare Nonostante la vedete bella nuova nuova Per colpa di due celle Questa batteria va presa e cestinata Ok? Ed è questo il problema principale del litio Se voi vedete qua Qua abbiamo un voltaggio nominale Di 4.08 3,97 Poi 3,86 3,77 Sono tutte sballate Il sistema Lo dice Le ha messe in rosso Queste due Il sistema dice che sono sballate E non mi fa partire la carica Nonostante Qua abbiamo solamente 15 cicli Cioè questa batteria È stata caricata 15 volte Ed è da buttare E questa batteria Costa 200 euro Ecco il problema Delle litio Quindi finché Le batterie di un drone Uno va Se la compra Insomma Più o meno Le batterie di un drone Come questa Queste Insomma Si trovano Quando invece vi succede Ripeto Con le litio ferrofosfato È lì un problema Perché ripeto Non le potete trovare Ok? Quindi per far partire la carica Bisogna fare così Ripeto Io lo sto facendo Su batterie da modellismo Ma è lo stesso principio La stessa identica cosa Sul caricabatterie Del vostro sistema fotovoltaico Per caricare le litio ferrofosfato Il sistema utilizza Un BMS Che praticamente È un sistema Che bilancia Le celle Che vi ho fatto vedere io In questo caso Io lo farò Così In automatico Vedete Mi riconosce già Che la batteria è una 6S Ok? Una litio La caricherò A 2,2A E metto start Ok? E lui inizia la carica Vedete? Adesso lui sta dando 23V E dovrebbe dare Massimo 2A Di carica Ok? Ok 2A E 10 Se voi andate Sulla cella Vedete Lui le sta caricando E nel contempo Le sta bilanciando Questo sistema qua Nel vostro sistema fotovoltaico Lo fa il BMS Che è un computer a parte È proprio un vero Proprio computer C'è un software Ha processori È un vero Proprio sistema A sé Cosa che invece Nelle piombo Nelle piombo di macchina Non esiste questa cosa Perché come vi ho fatto vedere io Più o meno E via Vedete Più o meno E via Ok? Non dovete fare niente Quindi anche Il sistema che monterete Nel vostro sistema fotovoltaico Non avete bisogno Di un BMS Potete solamente Caricarle con un positivo E un negativo Tra parentesi Come si suol dire Alla vecchia maniera Quindi Quando voi mi dite Perché non monti Il litio Per questo Esattamente Per questo motivo Qua Esattamente Per questo motivo Qua Perché comunque Ripeto Queste sono tutte batterie Rotte Da buttare Tutte Tutte Qua ci sono A meno Un migliaio di euro Di valore Da buttare E ripeto Quando lo fate Su un sistema fotovoltaico Il problema È che non avete Ripeto Subito Il venditore Che ve la compra Sotto casa Quindi Ripeto Le litio Che siano ferrofosfat Che siano ioni Finché dovete far volare Un drone Finché dovete far volare Ad esempio Un elicottero Come questo Dove comunque Siete costretti Ad avere poco spazio E molta leggerezza E molta densità energetica Siete costretti Purtroppo A Andare su Il litio Perché loro Non possono avere Quella compattezza Ma quando dovete Ma se avete spazio Se avete possibilità Ripeto Di Insomma Di arrangiarvi In qualche modo Se avete una taverna Se avete un ripostiglio Io Quello che vi consiglio Io È loro Ok Questo È proprio Un fatto tecnico Che vi volevo Far vedere Dal vivo Perché ripeto Io le litio Le conosco Quindi Ecco perché Non le ho scelte Per il mio impianto Questo è il primo motivo Poi il secondo motivo Principale È purtroppo Il prezzo Perché comunque Il prezzo È molto importante Adesso io Nel mio sistema fotovoltaico Ho rivoluzionato Il pacco batterie Che vi farò vedere Ma anche se l'ho rivoluzionato Sono sempre andato Su piombo acido Di auto Ok Quindi non ho fatto Chissà quali Modifiche Sono solamente Andato sempre Su le piombo acido Ovviamente di un altro tipo Di un altro modello Di altre dimensioni Di altre capacità Ma è sempre piombo acido Perché secondo me Per quanto riguarda I semi fotovoltaici Se non avete Grosse pretese E se non avete Anzi Se avete spazio disponibile Secondo me È la scelta migliore Va bene Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima